Neanche la chiesa Santa Maria della Fede è stata risparmiata dalla raffica di furti degli ultimi mesi. I ladri si sono introdotti persino nella parrocchia del paese, quindi trafogando anche alcuni oggetti di valore religioso. È iniziata proprio da lì la trafila di microcriminalità nella zona della Valdaso. Con il furto nella piccola chiesa di Montefiore si è registrato forse il bottino più ingente. Sentiamo l'amarezza del parroco Don Vittorio Rossi. Hanno portato via il battistero, un pezzo d'arte perché era della scuola marchidiana del Settecento. Poi un'altra fila di candelieri, roba di argenteria, due ostensori con altri suppellettili della chiesa. Poi dopo 15 giorni sono ritornati ancora e hanno portato, hanno razziato altra roba. E fino a 20 giorni fa, l'ultimo furto che c'è stato, hanno portato via quello che precedentemente avevano lasciato, che aveva un valore inferiore. Una vera e propria profanazione quindi, che ha colpito la comunità religiosa Montefiorana. Ed ora, e la cosa può far sorridere, si pensa addirittura alla messa in sicurezza della piccola parrocchia. Stiamo già pensando all'allarme, le spese ci sono, noi non abbiamo molte entrate in questa situazione, per cui a breve ci sarà proprio quest'allarme che aiuterà perlomeno a segregare un po' il posto. Anche Lucio Ponziani è stato visitato dai ladri. Lui con la sua famiglia era in casa a dormire. Non ci siamo accorti di nulla, ha detto, raccontando la dinamica del furto. Ovviamente hanno prelevato una scala da uno lì vicino, che abita vicino a noi, poi con la scala sono saliti sopra il balcone, hanno praticato un foro vicino alla maniglia della finestra, poi con un ferro, presumo, hanno aperto la maniglia e si sono introdotti dentro casa. Quello che ancora non riusciamo a spiegarci è come abbiamo fatto con il cane, perché abbiamo un cane dentro la cucina che dorme sempre lì in cucina. Quattro cellulari, indumenti, soprammobili e un computer portatile, gli oggetti prelevati alla famiglia Ponziani, ancora incredula per l'accaduto. Ma la serata più movimentata l'ha trascorso sicuramente il ristoratore Gabriele Crescenzi. Avvisato dal figlio nel cuore della notte, ha affrontato i ladri con coraggio e non curante del pericolo, ha impugnato la sua pistola regolarmente registrata. Ho sparato un colpo in aria per fare un po' e sono usciti, hanno saltato dalla finestra di tre metri, non ci sono fatti niente. Poi abbiamo messo un faro contro, sono riusciti a fuggire nella campagna, saltando sopra il mio cancello, sembravano dei gatti inseguiti dal cane, diciamo, una cosa mai vista. Proprio dei ragazzi dal medesimo, avevano sopra un cappuccio, purtroppo non sono stati potuti riconoscere perché erano cose, ma per me erano sicuramente qualcuno che si conosceva pure, perché altrimenti non si sarebbero incappucciati. Per fortuna tutto si è risolto con un colpo in aria, con la sola volontà di impaurire. Del resto è la quarta volta che malviventi visitano il ristorante di Crescenzi, situato al piano terra della sua abitazione, e l'esasperazione dei cittadini spesso raggiunge i livelli più alti. Grazie.